Per assumere ancora più brutalmente il pensiero, sperando di non tradirlo, del professor Finelli, sostanzialmente il capitale, das capital, è la scienza della logica, cioè è il trionfo di questa entità sovrapersonale, non sovrapersonale, impersonale, anonima, astratta, che estirpa individualità, estrae energia vitale, creativa, discreta, individuale, differenziata e la trasforma in valore di scambio. Quindi in questo senso anche la teoria del valore lavoro come nucleo originario e formativo di cui alludeva il dottor Basile è persuasivo. Se la prima cellula del processo di valorizzazione è già in nuce, in embrione, prefigura quindi l'organismo anonimo, impersonale, astratto del capitale oggi più di ieri, perché oggi il capitale è veramente, oggi è vera la definizione marxiana del capitale come rapporto sociale di produzione. Oggi il capitale ha pervaso, ha risucchiato, ha completamente liquefatto ogni tipo, è qui dissento sostanzialmente da Luca, totalmente liquefatto ogni istanza antagonistica. Il capitale è diventato, prima si è affermato poi domani col professor Palano, sicuramente queste anche, diciamo, antinomie, questa fenomenologia dell'operaismo italiano, la vedremo. Il capitale prima si è impadronito della fabbrica, poi si è impadronito della società, dell'operaio sociale, contemporaneamente creando forme di manipolazione, di strutturazione dell'immaginario collettivo ed ora, come diceva poco fa il professor Finelli, ha invaso le nostre coscienze, la nostra corporeità. Fucoltianamente la politica è diventata una biopolitica, ci vengono scippate addirittura le forme così spontanee di ideazione, le competenze che ereditiamo dall'ambiente familiare, le forme inconsapevoli di collaborazione. Quindi, venendo a dominare l'astratto, essendo il concreto spogliato di ogni possibilità di, diciamo così, di espressione e la difficoltà che Chiara sottolineava e anche il professor Finelli, di, oggi, di procedere ad una costruzione della soggettività partendo dai luoghi classici in cui questa, fino a 30-40 anni fa, si costruiva. Fondamentalmente, aveva ragione Weber. Weber, sostanzialmente, è l'altra faccia di Marx. E, diciamo, quello che Marx, forse, se avesse vissuto qualche anno in più, avrebbe visto con altri occhi, avrebbe interpretato con altri occhi quegli stessi fenomeni che Engels, invece, da cui Engels fu in qualche modo atterrito, impressionato, ma che l'intelligenza superiore, come diceva il professore, di Marx, sicuramente avrebbe capito, penetrato, e se fosse vissuto qualche anno in più, qualche, insomma, 10-15 anni in più, sicuramente la sua parabola l'avrebbe condotto nelle vicinanze di Weber. Perché Weber dice fondamentalmente, anche qui, semplificando al massimo, in maniera brutale, l'economia si fa macchina, si fa sistema astratto, impersonale, lo Stato, ugualmente, proprio per la sua natura burocratico-amministrativa, che prescinde dalla, diciamo, dalla discretezza individuale, e l'interiorità, questa nuova, inedita forma di soggettività, corrisponde a queste dinamiche strutturali e politiche, e quindi il quadro si chiude, non la cupola, la famosa immagine della cupola d'acciaio che si chiude sulla resistenza individuale e l'immagine del futuro affidato ai gaudenti senza cuore, agli specialisti senza anima, se non ricordo male la citazione dell'etica protestante, spirito del capitalismo. Quindi, nonostante Weber sia stato così impropriamente definito il Marx della borghesia, forse, ecco, in questo intervento che poi affiderò al volume degli atti che pubblicheremo fra qualche tempo, anziché essere il Marx della borghesia, forse Weber è il prolungamento ideale di una sensibilità, di una consapevolezza che Marx probabilmente avrebbe maturato se avesse avuto modo di affacciarsi sugli sviluppi imperialistici e finanziari del capitalismo del tardo secolo XIX.